ciao a tutti ragazzi questo tutorial vi farò vedere come riuscire a capire quali sono le persone che fanno di screen con instagram delle vostre storie è una cosa abbastanza banale probabilmente lo conoscerete di già questo metodo ma molti non lo sanno come funziona e me mi piace farvi vedere come fare apriamo la nostra applicazione instagram e cerchiamo di capire come si individua questa questa funzione che diciamo vi aiuta a capire coloro che tra virgolette vi spiono andiamo aprire l'applicazione instagram come ho detto e vediamo nel dettaglio se vado sul mio account personale questo caso cerco big net che dove avevo messo una storia apriamo la storia eccola vediamo eccola qua adesso blocchiamo le immagini facciamo lo screen della stessa ecco lo screen fatto a questo punto io ho visualizzato con il mio account personale la storia ho fatto lo screen se torno nel mio dell'account big net e vado a vedere coloro che hanno visualizzato sono otto persone ecco l'elenco ecco l'elenco di tutte le persone che hanno visualizzato in questo caso come vedete c'è big 67 che il mio account personale che ha fatto una la visualizzazione e compare questo chiamiamolo fiore o asterisco insomma è questo simbolo accanto al al mio account e questo cosa significa significa che la persona con cui appare questa questa questo simbolo ha fatto lo screen del vostro della vostra storia cioè si è salvato sul telefono la vostra storia personale per motivi sua perché vi seguo in modo particolare eccetera eccetera ecco probabilmente non non è una cosa così fondamentale importante per voi però quello che posso dirvi è che sapere coloro che sono realmente interessati alle nostre storie intanto da farne uno screen e salvarle sul telefono può essere una cosa che comunque può servirci per cui niente ecco con questo vi saluto vi chiedo di aiutare a far crescere il mio canale datemi dei like iscrivetevi al canale stesso e alla prossima cercando di darvi sempre piccoli ma aiuti interessanti ciao a tutti